Ciao! Oggi facciamo le pene alla vodka. Per farle, abbiamo bisogno di questi ingredienti. Un litro della salsa marinara. Otto once di vodka. Quattro once della panna da montare. Quattro once di parmigiano. Un litro di pene. Prima, cuoce a fuoco lento la salsa, la vodka nella padella. Nella padella! Nella padella! Nella padella! Nella padella! Grande e pesante per circa 20 minuti. E mescolare continuamente. Mescolare la pane con la mescolanza. Cuoci a fuoco lento fino a quando non sia caldo. Mescolare il parmigiano con la mescolanza fino a quando non sia mescolato bene. Allora, cuoci le pene al dente nella pentola grande. Scola le pene e metti le nella padella. Nella padella! Nella padella! Nella padella! Nella padella! Con la salsa alla vodka. E l'anziale per mescolare. Grazie per aver guardato! Buon appetito!